Buonasera a tutti e benvenuti a The U Vi chiedo un po', non ci sarà nessun problema se farete delle foto durante il concerto Roger però vi chiede di non usare il flash perché durante tutto quello che voi vedrete utilizzandolo sarà solo un grande muro via Vi chiede anche di non usarlo per evitare che rovini gli effetti speciali dello spettacolo a cui state per assistere E, una cosa, non usate io, grazie davvero di divertire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti